Io sono Fabio Caon, buongiorno a tutte e a tutti e ovviamente ringrazio a nome mio e anche delle colleghe Analisa e Giorgia, AID e Laboratorio DEL per l'invito. Di cosa ci occupiamo noi? Ci occupiamo di BES presi da una prospettiva plurale, cioè appunto da tutte le tipologie dei BES. Il fatto che siamo in tre deriva proprio da questo, cioè dal fatto che siamo un team di lavoro che si occupa, poiché questa etichetta è un cappello di fatto che tiene dentro molte differenze di tipologie di studenti, quelli con plus dotazione, i studenti di cittadinanza italiana, i DSA, insomma, riteniamo che sia importante avere un gruppo di lavoro. Nel caso mio insegno didattica delle lingue a Ca' Foscari e mi sono occupato per la parte mia, diciamo, della mia storia scolastica di italiano a stranieri. Io ero un facilitatore linguistico e quindi, insomma, ho gestito per anni dalla primaria alle superiori i bambini e i ragazzini di lingua e di nazionalità non italiana. Annalisa, a te la parola e poi a Giorgia. Allora sì, buon pomeriggio a tutti. Io sono Annalisa Bricchese, faccio parte anche io del laboratorio di comunicazione interculturale didattica e di questa famiglia, questo laboratorio più allargato di cui fa parte anche Giorgia Del Vecchio che poi si presenterà. Come Fabio sono stata facilitatrice linguistica per circa una decina d'anni, anch'io dalla primaria, praticamente dagli 0 ai 99 e ho anche insegnato italiano storia e geografia alla scuola secondaria di primo grado. Attualmente sto facendo il dottorato in linguistica educativa, ma comunque la cosa che ci preme sempre sottolineare è questa relazione stretta tra la teoria e la pratica che contraddistingue tutti i ricercatori e i formatori dei nostri gruppi di ricerca. Quindi persone che vanno a scuola o che sono state a scuola per molto tempo e che contestualmente anche studiano, fanno ricerche e sperimentano proposte, metodologie didattiche nuove e appunto sempre nell'ottica dell'inclusione. Mi fermo qui e lascio a Giorgia i saluti. Sarò brevissima. Intanto buongiorno e benvenuti a tutti, anzi bentornati. Io sono Giorgia Del Vecchio e sono docente di lingua e cultura spagnola all'Istituto Tecnico del Turismo Mazzotti di Treviso da quest'anno, però ho insegnato per moltissimi anni alla scuola secondaria di primo grado. Sono anche da più di 15 anni docente a contratto presso l'Università di Parma dove insegno letteratura spanoamericana e nel 2017 è iniziata la mia collaborazione con DEAL proprio in seguito ad un progetto di ricerca azione con l'AID in cui mi aveva coinvolto una carissima collega che saluto, Lorena Rasera. Non so se sei qui con noi oggi, ma è lei che mi ha aperto le porte ad EAL, ad AID e a tutto il percorso che è seguito. In DEAL mi occupo soprattutto di accessibilità dei materiali linguistici e anche di didattica orientata all'azione basata sul task. Ci siamo divisi l'argomento così, io farò un piccolo cappello introduttivo, passerò la parola ad Annalisa che farà vedere un'attività ludica inclusiva e poi Giorgia ne farà vedere gli adattamenti necessari o possibili per studenti con DSA. La classe di abilità differenziate è il cappello che unisce poi la nostra riflessione. Cosa vuol dire? È ovviamente una costatazione, ogni studente è diverso, ogni studente per storia, per BNA è diverso dagli altri, ma soprattutto è un modo di vedere le classi. La classe è un sistema in quest'ottica metodologica che poi fa capo alla metodologia mediazione sociale, quindi ha una didattica orientata a vedere nel gruppo degli studenti e nel gruppo degli studenti la risorsa primaria, ovviamente l'interdipendenza è la parola chiave. Bene, quali sono le caratteristiche di questa nostra organizzazione? Allora, un'azione che noi facciamo su tre versanti e che sono l'organizzazione della classe e l'uso di metodi di mediazione sociale, quindi tra questi il cooperative learning, la didattica ludica e il peer tutoring. Sono le cosiddette attività a compito aperto e la terza via che abbiamo trovato per poter gestire l'eterogenità in classe sono l'utilizzo di schede differenziate o stratificate, differenziate, cioè diverse per intelligenze multiple a cui fanno riferimento, o stile cognitivo o stile di apprendimento, quindi una varietà, chiamiamola in orizzontale, e invece stratificate intendiamo diverse per complessità, schede che siano più semplici o più complesse. Veniamo al tema del nostro incontro, la didattica ludica, che cosa è la didattica ludica? Dobbiamo smontare due pregiudizi se dobbiamo parlare di didattica ludica a scuola. Il primo è quello che oppone la dimensione ludica al gioco allo studio e la seconda è che è un'esperienza solo per bambini, quindi dalla preadolescenza in poi il gioco smette di avere la sua funzione costruttiva che invece ha nell'infanzia. L'attività ludica ha quattro caratteristiche, è impegnativa, cioè prevede un coinvolgimento psicofisico, cognitivo, affettivo, relazionale, culturale, insomma è un'attività complessa e completa, che coinvolge ovviamente anche a seconda della tipologia di attività ludica, ma tendenzialmente lavora sulla dimensione cognitiva, emotiva e relazionale. È un'attività continuativa, cioè un'attività che accompagna costantemente la vita del bambino e continua ad avere un ruolo nella vita dell'adulto. È un'attività progressiva, è un'attività che si rinnova, che non è statica, che è fattore di crescita cognitiva, relazionale, affettiva e che amplia le conoscenze e le competenze. Quindi il gioco nel suo farsi sviluppa le competenze. Se veniamo all'ultima caratteristica del gioco libro, che è la sua non funzionalità, cioè il suo carattere autotelico. Il gioco ha scopo in se stesso, una persona gioca perché ha piacere di giocare, quando è finita la partita finisce l'esperienza. L'attività ludiforme invece, quindi il gioco didattico, ha solo le prime tre caratteristiche, quindi mantiene quell'aspetto naturale del gioco progressivo che abbiamo definito prima. Ma è costruita intenzionalmente per dare una forma divertente e piacevole a determinati apprendimenti. Mi fermo qua e passo la parola ad Annalisa che ci fa vedere un tipo di gioco di compito aperto. Che si chiama caccia all'intruso, ma come vedremo è stato modificato poi in caccia all'intruso ad oltranza. Vi faccio prima un esempio così riuscite a capire la logica del gioco e poi invece chiederemo a voi di provare a sperimentare la stessa modalità, ovviamente con altri contenuti. Allora, voi fornite agli studenti sei parole. In questo caso si va a ricercare la parola intrusa all'interno del gruppo di parole fornito. Quindi tolgo X perché è l'unico, mentre gli altri sono. Tolgo arancia perché è un frutto, mentre tutti gli altri sono colori. Ok, questa è la logica. Quindi tolgo 1 perché è l'unica cosa che ha quella caratteristica, mentre gli altri hanno tutti caratteristiche diverse. Quindi tolgo arancia perché è l'unico frutto, mentre gli altri sono colori. E poi, e qui continua il nostro caccia all'intruso che diventa da intruso a intruso ad oltranza, perché dobbiamo andare avanti nel togliere intrusi fino ad arrivare a rimanere con una coppia di parole, che sono la nostra soluzione. Quindi di fatto nel mio caccia all'intruso, con questa modalità che vi abbiamo proposto, restiamo con il giallo e il verde. Ovviamente altri percorsi sono possibili e questa è proprio la caratteristica del compito aperto, cioè di dare una regola che vale per tutti, ma ciascuno può applicarla secondo delle categorie libere. L'importante è rispettare il tolgo X perché è l'unico, mentre gli altri sono. Questa è l'unica regola del gioco ed è inclusivo proprio perché lavora in questo senso su la scelta personale, cioè ciascuno mette in campo quello che sa. Quindi non mi lego solo alla caratteristica grammaticale, ma mi posso legare a tutto. Proviamo adesso a passare a una proposta fatta a voi. È una caccia all'intruso sulla grammatica. Le parole sono queste, sono lo, la, uno, l'apostrofo e il e gli. Intanto copiatevi queste parole su un foglio. Andate a eliminare una parola perché, mentre le altre sono. E quindi dovreste rimanere con una coppia di parole. Tre minuti di tempo per voi. Quindi la soluzione ha un finale aperto. Le coppie che rimangono non sono sempre le stesse, ma quello che a noi interessa non è il risultato finale, ma il processo che è stato messo in atto in modo corretto dallo studente in maniera autonoma, pescando da ciò che sa e da ciò che sa fare. Però, ripeto, le soluzioni sono tantissime. La procedura è quella che sei, cioè l'aspetto del ragionamento, l'aspetto cognitivo è quello che ci interessa. Ciascuno per una propria strada può arrivare a risultati diversi. Tanto più se poi, come puoi dire a Giorgio e come accennava Fabio, questa attività viene proposta cooperativamente, cioè all'interno di un gruppo di quattro studenti, dove ogni studente ha un proprio ruolo determinato, quindi creando una interdipendenza all'interno dei componenti del gruppo, questo assume maggior significato, perché è chiaro che si formano anche delle forme di tutoraggio, dove lo studente più esperto, per esempio, può spiegare alcuni aspetti grammaticali allo studente meno esperto e quindi anche in questa sorta di interdipendenza di conoscenze, ovviamente l'inclusione si realizza. Però, appunto, l'aspetto dell'attività didattica e ludica che vi abbiamo presentato è che proprio l'attività è ludica in sé, è sfidante in sé, mette gli studenti in competizione soprattutto con se stessi, quindi ha questo aspetto di ludico, ma anche di cooperazione e non di pura competizione. Perfetto, allora passiamo la parola a Giorgia che invece ci fa vedere come poi tutto questo vada ulteriormente adattato, declinato per studenti con DSA. Vediamo quali possono essere le possibili barriere per uno studente con DSA e come potremmo migliorarne l'accessibilità. Partiamo da un esercizio del genere, quindi riprendo lo stesso esercizio che vi ha presentato analisa, però non nella versione a oltranza. Rimaniamo sulla caccia all'intruso, perché mi interessa analizzare proprio le barriere che può riscontrare uno studente con DSA. Allora, questa caccia all'intruso è come vedete ha un focus grammaticale, quindi parto da questa premessa, quando il focus di un esercizio grammaticale abbiamo una prima criticità, ovvero il fatto che richiede un recupero rapido delle conoscenze dichiarative sulla lingua o sui meccanismi della lingua o sulla forma o la struttura linguistica che è oggetto del quesito. Quale può essere una prima soluzione? Dare uno strumento compensativo, possibilmente costruito in classe in una fase precedente, preliminare a quella della proposta di questo tipo di esercizio, cioè in fase di concettualizzazione o elaborazione dei contenuti linguistici. Per questo motivo ho inserito nell'adattamento che proporrò questo tipo di lavoro preliminare. Quindi vedremo poi come si può inserire questa fase. Va detta anche un'altra cosa, per lo studente con dislessia o altro DSA associato in comorbidità, la riflessione linguistica di per sé non costituisce un problema. Il problema qual è? Che con questo tipo di esercizi, cioè che si basano sul riconoscimento delle forme, molti discenti, in generale i discenti, tendono a fare affidamento sulle conoscenze implicite. E il recupero delle conoscenze implicite sono proprio il problema per uno studente con DSA. Quindi è fondamentale fare leva su quello che può essere invece un punto di forza e stimolare l'esplicitazione delle conoscenze dichiarative, guidando in maniera opportuna gli studenti attraverso delle attività o una scomposizione del compito in sottocompiti e in fasi intermedie come vi mostrerò. Quindi è importante supportare l'apprendimento dell'alunno con DSA, sfruttando la sua capacità di riflettere sulla lingua attraverso l'esplicitazione. Possiamo quindi chiedere di spiegare i criteri di esclusione o di scelta dell'item, stimolando un dibattito, è qui l'importanza della modalità cooperativa, un dibattito che può avvenire a coppie o a piccoli gruppi, anche perché il confronto e il ragionamento condiviso tra compagni, tra alunni stimola la memorizzazione profonda di quel contenuto linguistico. Vediamo come possiamo analizzare questo esercizio. Partiamo da uno strumento importante che ci offre Michele D'Aloiso, in un saggio che trovate poi in bibliografia, lo strumento dei tre livelli di fruizione dei materiali linguistici. Allora io posso andare ad analizzare il grado di accessibilità di questo esercizio, partendo dal livello di riconoscimento, che è il livello più superficiale, di contatto immediato con il materiale linguistico, in questo caso con l'esercizio. Poi abbiamo un secondo livello che è quello di elaborazione, che riguarda lo studio, la comprensione delle informazioni, l'analisi e la riflessione linguistica sulle forme, la loro sistematizzazione. Infine abbiamo il livello dell'applicazione, che è quello dell'esercitazione, per esempio l'applicazione delle conoscenze linguistiche che sono state affrontate, il loro uso o ancora l'esercizio che serve ad allenare o a sviluppare un'abilità linguistica. Dunque, se noi consideriamo il livello di riconoscimento, possiamo, uno studente con DSA può trovare problemi di accessibilità fisica al testo, all'esercizio, come si presenta dovute a un font non leggibile, una spaziatura non sufficiente fra i caratteri, un'interlinea non sufficiente, una disposizione non accessibile dell'esercizio nella pagina, un sovraffollamento visivo nella pagina, uno sfondo sfumato. Se consideriamo invece il livello di elaborazione, abbiamo un problema di presentazione non accessibile dei contenuti, ma che qui non troviamo gli elementi in un contesto discorsivo. E poi infine abbiamo il livello di applicazione, quali difficoltà, quali barriere può incontrare lo studente con DSA? Beh, le barriere possono nascere a livello di procedura, cioè di modalità di svolgimento dell'esercizio, oppure per una consegna poco chiara o perché richiede tecniche non accessibili per studenti che hanno un disturbo specifico dell'apprendimento. Vediamo una proposta di un possibile adattamento considerando i tre livelli di fruizione. Dicevo, rispetto all'esercizio originale potete vedere già visivamente che cosa abbiamo fatto, siamo intervenuti sul font, abbiamo usato un font ad alta leggibilità, che in questo caso è l'Easy Reading, che ho usato anche per tutte le slide e siamo intervenuti con delle impostazioni grafico-stilistiche per favorire la decodifica per uno studente con dislessia. Abbiamo separato il titoletto dalla consegna vera e propria, abbiamo presentato l'esercizio in forma multimodale, lo vediamo anche da queste icone e poi è importante dare le istruzioni in modo chiaro, preferendo per esempio le forme attive piuttosto che le forme passive, utilizzando frasi brevi, una sintassi lineare. Qui per esempio ho preferito sostituire gli infiniti con delle forme imperative che rendono la consegna immediata, chiara, diretta. Se ci spostiamo al secondo livello, che è il livello di elaborazione, l'adattamento propone di inserire una fase preliminare allo svolgimento dell'esercizio, una fase che orienta lo studente nel noticing, cioè nel notare le forme e quindi gradualmente spostare l'attenzione dai significati dove sempre va in prima analisi l'attenzione di tutti gli studenti, di tutti i discenti e spostarla gradualmente verso le forme. e come l'abbiamo fatto? L'abbiamo fatto con l'inondazione, la scelta di un testo che presenta un'alta frequenza, con un'alta frequenza questi elementi, cioè gli articoli determinativi e indeterminativi e con l'evidenziazione di questi elementi. Dopodiché si chiede all'alunno di distribuirli, di collocarli in questo organizzatore grafico. Non diamo lo schema già pronto, non diamo la classica tabella del libro con tutti gli articoli, ma la costruiamo, organizziamo le conoscenze in maniera costruttiva e compartecipata, condivisa in classe. Passiamo alla fase successiva e riprendiamo l'esercizio, la caccia all'intruso. Qui parliamo di, quando lavoriamo sul livello di applicazione, interveniamo con una riorganizzazione dell'esercizio, che significa riorganizzare tre delle quattro componenti che costituiscono un esercizio, che sono il focus, la consegna, la procedura e i supporti. Quindi andremo a intervenire sulla consegna, oppure sulla procedura, oppure sui supporti o su tutte e tre le cose. Che cosa abbiamo fatto qui? Abbiamo innanzitutto aggiunto un esempio, quindi siamo intervenuti sulla consegna aggiungendo l'esempio. Il primo quesito, vedete, è già svolto. Abbiamo inserito per ogni insieme, trova un intruso come nell'esempio. Abbiamo evidenziato le parole chiave, abbiamo scomposto la consegna in sottocompiti. Perché è importante questo? Perché lo studente potrebbe riuscire a fare la prima parte dell'esercizio, ma potrebbe non riuscire a trovare il criterio di scelta, non riuscire a spiegarsi. Passiamo all'intervento sulla procedura, perché oltre a scomporre la consegna abbiamo inserito delle fasi intermedie. Spiega al tuo compagno, là sotto quando siete tutti d'accordo scrivete i criteri e poi condivideteli con la classe. Siamo anche intervenuti ulteriormente con il paratesto, inserendo un fumetto che ricolloca l'elemento linguistico in contesto. Infine abbiamo esplicitato il lavoro cooperativo, anche con l'ausilio di queste icone che guidano lo studente nel svolgimento e chiariscono la procedura. e quindi oltre ad inserire questi supporti, ne abbiamo inserito un altro che quello dell'interdipendenza consapevole e positiva tra studenti, come vi dicevano prima anche Anna-Lisa e Fabio quanto importante è questo supporto. Grazie ancora. Grazie. Buona giornata, buon pomeriggio, buona conclusione di convegno a tutti e a tutte. Grazie.